Ciao ragazze e benvenuti in questo nuovo video, in questo video giocheremo un poco e incominciamo con la partita, se avete ben visto tengo Carl al grado 10 da poco lo, ok, non c'era, ci prendiamo subito questa cassa, sto vicinando al muretto, quindi me la posso prendere con calma vorrei prendermi anche quella, ma devo cercare di allontanare forse posso prenderla, lo sai, lo sapete, ma no, no, non posso prenderla ok, siamo a sesti uh, cavolo, beh, se la pensa rosa, cazzo se noi restavamo là, ce la prendevamo noi no, telefono, non mi fa questo troviamolo ma dove sta? eccolo qua prendiamo questo no, se l'ha presa lei sono morta sono morta ah boh, ho piozzo, ce l'ho portata a casa certamente beh ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto questo è un po' corto, però non ho un po' solito, sarà questo a lungo spero che il video vi sia piaciuto lasciando un bel like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo con il prossimo video ciao ragazzuoli